Torna il trionfo del carnevale e si anima il centro storico di Fossombrone, tornando al rinascimento. Da venerdì 12 a domenica 14 maggio la Proloco Forum Semproni metterà in scena uno spettacolo che da anni torna a rivivere i fasti e le vicende raccontate dal buffone di corte Attanagio Attanaggi. È il primo impegno ufficiale del neopresidente della Proloco, Massimo Berloni, che cercherà di coordinare il tutto secondo una logica imprenditoriale di trasparenza e sicurezza. Divertimento dunque, ma in maniera responsabile. Sì, bisogna divertirsi, ma il fatto stesso che bisogna divertirsi bisogna farlo fin in fondo. Non può essere un divertimento che poi sfoccia in risse o gente morta per strada, morta nel senso lato della cosa ovviamente, perché si è ubriacato e perché questa gente non si sta divertendo. Divertirsi vuol dire partecipare, vuol dire incontrare la ragazza piuttosto che il ragazzo, vuol dire stare bene. Se uno non sta bene, come può divertirsi? Divertirsi. 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 Divertirsi.